Ancora uno stop per il termovalorizzatore di Acerra che chiude una linea. La società A2A che gestisce l'inceneritore ha comunicato la manutenzione della linea 3 per il prossimo 15 marzo per circa 4 settimane con la conseguente riduzione dei conferimenti dall'impianto di battipaglia al termovalorizzatore di Acerra. Questo comporterà un'oggettiva difficoltà nel garantire i regolari conferimenti della frazione indifferenziata da parte dei comuni della provincia. Pertanto fino al 15 aprile circa i comuni potranno conferire al TMB il 60% dei rifiuti prodotti. Quotidianamente infatti la A2A farà entrare soltanto 12 camion provenienti dall'impianto battipagliese, un taglio di 6 mezzi rispetto ai 18 che lasciavano passare in condizioni ordinarie. Grazie a tutti.